La Prospettiva Italia L'autore delle musiche Asa Saghi La Marchatrice Monica Villi Il direttore della fotografia Gianfilippo Corticelli Lo sciogliatore Igor Tuveri Il produttore per Gian di Bonitalia Eda Ferri Per Cinema 11 Luigi Musini Per Cinema Paolo De Brocco Daniel Bo Lucy Griffiths Rilla Sofia Back Ken Bradley Yorick Van Buckmingen Ringo Kikuchi Il regista e sceneggiatore Leonardo Guerra Grazie 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 Grazie.